Ragazzi è andata così, un Morata indipendente che da quando è arrivato alla Juventus sta facendo praticamente l'uomo salva perché praticamente esiste in questo momento solo Morata, data l'assenza importante oggi della Juventus in campo di Cristiano Ronaldo La Juventus che vince, vince in un campo difficile quindi inaspettatamente, cosa che non mi aspettavo oggi però comunque a livello di singoli la Juventus è una squadra più forte ma io credevo tanto, credevo tanto perché l'ho detto anche ieri in questo Dinamo Kiev che comunque in casa è una squadra difficile da affrontare ma soprattutto una squadra che in casa porta sempre o quasi risultati importanti oggi è andata male perché il mio pronostico non si è avverato, la Juventus vince per due reti a zero con la doppietta di Alvaro Morata quindi è veramente un Alvaro Morata indipendente per la Juve Juve che sale a quota 3 punti per questa prima partita di Champions League poi ragazzi vedremo nel proseguirsi delle giornate della Champions League di questi gironi e fra un po' toccherà proprio alla carissima Lazio speriamo che comunque sia non perda contro un Borussia Dortmund che sicuramente ha sempre il Borussia Dortmund nulla ragazzi quindi quello che dovevo dire l'ho detto e spero che il video vi è piaciuto quindi lasciate like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto commentate e condividete purtroppo è andata così ragazzi il guffaggio stavolta questo giro purtroppo non è servito sarà per la prossima un bacio a tutti ragazzi e sempre Forza Inter